Bene, bentornati, vediamo adesso come impostare questa specie di museo che ho fatto e riportiamolo in Mozilla Hubs, che ho visto essere una delle cose più semplici da fare notate che ho inserito altri quadri, ho messo un'apertura laterale per poter entrare nei mondi virtuali qui invece c'è un difetto che eventualmente si corregge comunque una volta entrati, vedete che ci sono oltre i quadri, ci sono anche delle scritte ora le scritte, per intenderci, se volete creare anche queste scritte è sufficiente che andiate sul piano, quindi praticamente vi posizionate ad esempio qua se volete aggiungere una scritta, andate sul piano e qui c'è aggiungi testi CTRL SHIFT T, quindi siete qui, fate CTRL SHIFT T bisogna cliccare sul piano, questo di sopra, dove volete la scritta quindi per esempio qui voglio cliccare qua e qui diciamo mostra su Leonardo mettete il font che volete, quindi ad esempio Aleph mettete una misura 30 ad esempio visibile e vista 3D e poi attenzione, mettete un colore diverso dal nero perché il nero non si vede, perché diventerebbe nero su nero quindi mettiamo bianco e a questo punto abbiamo mostra su Leonardo che viene praticamente scritta per terra quindi si vedrebbe praticamente nel pavimento se voi queste scritte, che tra l'altro qui ho fatto le volete mettere in posizione diversa basta che clicchiate sul... qui andiamo in selezione selezioniamo, questo è una scritta che ho fatto prima la potete muovere un po' più vicino alla parete così ad esempio ecco, qui il problema è che vedete che questa scritta è un pochino alta se volete mettere la scritta in modo tale da abbassarla qua sotto ricordatevi la tecnica solita di andare a cercare qui vedete questo simbolo di elevazione e la abbassate se la scritta come questa qua la mostra su Leonardo la volete girare potete usare questo simbolo praticamente vedete che c'è il simbolo di rotazione la girate come volete se la volete in verticale anziché in orizzontale con doppio clic c'è la possibilità di avere la scritta verticale anziché orizzontale quindi potete metterla sulle pareti vedete che si gira quindi questa scritta se la vogliamo a questo punto appoggiare la parete la selezioniamo e la spostiamo sulla parete e poi vogliendo possiamo anche farla più grande ad esempio 70 no 70 è un pochino troppo lo facciamo 50 ok e a questo punto la potete mettere praticamente allineandola come volete ora non so se avete notato ecco qui tra l'altro è un po' bassa adesso quindi la selezionate ecco qui il gioco ecco selezionate questa selezionate l'elevazione quindi si deve cambiarsi il simboletto vedete che deve eccolo qua cambiarsi la alzate come volete e quindi avete il vostro oggetto fatto salvate il tutto ok e qui vedete che ho cambiato anche la scala l'ho fatta un po' più larga se a questo punto la esportiamo il tutto quindi andiamo sul livello più alto facciamo vista 3D facciamo esporto in formato obj andate nel punto nella cartella io adesso faccio Leonardo video esportato in formato obj esporta tutto e a questo punto per poterlo esportare in bozilla hubs dovete andare in blender adesso faccio new ok cancellate il cubo con x dopo di che fate un file import del vostro wavefront obj andate Leonardo video cliccate Leonardo video le importate eh non ha trovato la cartella andiamo un po' wavefront Leonardo video ok adesso la trovate è stato un errorino di sbaglio subito dopo averla importata visto che è troppo grossa fate s per scalarla perché è troppo grossa s 0.05 no 0.3 per farla un pochino più grossa e praticamente così viene amplificata o ridotta per controllare se è tutto a posto mettete cliccate qua sullo shading dovreste vedere tutte le cose a posto oppure anche su questo però lo shading è meglio perché vedete i colori ben messi quindi vedete che qui siamo al primo piano mostra su Leonardo qui per viaggiare ricordiamo che possiamo fare un shift F e poi W e quindi muoverci e con lo shift insomma andare a vedere se la stanza ci sembra buona e sembra buona in effetti possiamo andare anche al piano di sotto l'uomo vetroviano tutto sembra abbastanza a posto l'apertura c'è l'uver con questo quadro ok quando siamo soddisfatti cosa facciamo avendo sempre tutto cliccato qua quindi fate select hierarchy o comunque selezionate tutto ciò che è importante un dado video facciamo a questo punto l'export in formato GLTF nel formato GLTF mettiamo vuol dire che esportiamo in formato GLB qui di per sé esportate solo le gli oggetti selezionati quindi Leonardo video tutto il resto credo che sia a posto esporto automatico esporto tutte le figure le immagini andate in untitled qua e modificate come mostra video export GLTF ok a questo punto nella cartella avrete un un file .glb che si chiama questo che è di un mega e mezzo quindi è molto molto piccolo se lo aprite praticamente da qua se avete un visualizzatore 3D vi consente di vedere che cosa c'è ok vedete che le scritte appaiono appaiono comunque anche se non perfettissime quindi ce l'abbiamo andiamo a questo punto in Mozilla Hubs con Spoke quindi Mozilla Hubs con Spoke io ho una scena dove ho soltanto le cose fondamentali queste e c'è lo Spawn Point qua Spawn Point che è più o meno al centro andate sui modelli My Assets e fate l'upload del vostro GLB il vostro GLB si trova qua se non lo trovate fate asterisco punto GLB mostra video vedete che sono un mega e mezzo quindi è molto piccola questa mostra fate apri e viene questi questo megabyte viene caricato mostra video tasto destro place object at origin questo carica l'oggetto e lo mette più o meno nell'origine ma spostate lo spawn point quindi magari amplifichiamo un po' questo questo spazio prendiamo lo spawn point che è dove apparirà l'omino lo portiamo dentro ok così ti rendiamo anche conto se l'oggetto è da scalare o meno infatti vedete che adesso è un pochino troppo grosso perché l'uomo è troppo piccolo quindi come un insetto quindi possiamo ridurre ad esempio 0,3 la scala non nello spawn point magari ma quindi 1 ok andiamo nella mostra video e questo lo facciamo 0,3 ok quindi abbiamo mettiamo all'origine questa mettiamo lo spawn point che è questo ce lo rimettiamo dentro ok quindi siamo praticamente dentro la nostra casetta eventualmente la mettete più in basso quindi spawn point eh è lì ah adesso vediamo un po' è diventato troppo grosso l'omino quindi vuol dire che la nostra video la scala 0,30 facciamo 0,5 0,5 ok spawn point lo riabbassiamo l'omino e vediamo se quindi la casa è ancora piccoletta sembra vediamo un po' no potrebbe andare quindi ci facciamo Q per girare l'omino in modo tale che quando si entra vede più o meno l'uomo vetroviano di là vedete che vede questo a questo punto facciamo ctrl s per salvare la scena pubblichiamo la scena vedete che qui lui dice che ci sono troppi materiali ma in realtà è una scena abbastanza leggera adesso poi analizziamo i contenuti ma dovrebbe andare quando la vedete questa scena io ho già creato una ehm facciamo un refresh torniamo in una stanza che ha quella scena ecco vedete che guardo l'uomo vetroviano posso girare adesso vediamo un po' se funziona quindi l'uomo vetroviano ok vedo l'uomo vetroviano me lo posso guardare non sono sicuro di riuscire a salire le scale in effetti non le posso salire però posso ecco questo è un po' un po' piccolo problema quindi per rientrare rientro di qua nel prossimo video eventualmente vi faccio vedere come come fare per semplificare le cose cioè praticamente le scale questi oggetti qua non sono facilmente attraversabili quindi mettiamo un link per andare di là fine di questo video aspettate il prossimo dove vedrete che metterò un po' di link per poter navigare in questa scena di un po' di un po' di un po' di un po' Grazie a tutti.